Questo quando fai così, Luigi! Ehi ragazzi, tainatemi, per favore, e lo stare chiusi qui dentro che mi rende isterici! Fughetto ha ragione, cos'è successo ai super fratelli che si adorano? Sono tutti contenti, si vede che il ballo è piaciuto! E deve ancora arrivare il meglio! Suggerisci il prossimo? Qualcosa di ok! Oh, classico! Dolce e divertente! Sei forte, Ghidi! Dai tu l'attacco! Era il 1968 quando 44 Gatti vinceva la decima edizione dello Zecchino d'Oro. Negli anni diventerà una delle canzoni più ascoltate e cantate di tutta la manifestazione a scuola come sul web. Sarà forse merito di quel motivetto impossibile da togliere dalla testa?